Sono passati dieci mesi da quando il reparto di odontoiatria speciale dell'ospedale Giannelli di Cetraro è stato chiuso. Istituito nel 2001, era diventata un'eccellenza, sia per il valore sociale, sia per le prestazioni altamente qualificate, di cui necessitano chi è affetto da gravi disabilità o patologie, e che richiamava pazienti dall'intera Calabria e dalle regioni limitrofe, a mobilitarsi diverse associazioni del comprensorio, capofila ma a me indispensabili. Il reparto era rivolto a pazienti non collaboranti, gravissimi, e da curare in anestesia generale. Funzionava benissimo, c'era un'equipe di oltre dieci medici, c'era anche uno psicologo che seguiva anche le famiglie quando si recavano presso l'ospedale, e oltre a questo c'era anche un'equipe dove c'erano dei clown dottori. Tutto questo è durato per pochi anni e hanno riconvertito questo servizio in servizio odontoiatrico speciale, che è tutta un'altra cosa, è un servizio dove si possono curare anche persone che hanno reddito zero. Non è rivolto più solo a disabili gravissimi e quindi hanno tolto tutta quell'equipe che c'era prima ed è rimasto solo un medico. Però, ahimè, momentaneamente sono dieci mesi che il reparto è richiuso. Non sappiamo le motivazioni, non sappiamo per quale motivo è stato fatto tutto questo, e noi siamo ancora oggi qui a chiedere alle varie istituzioni per quale motivo siamo in queste condizioni oggi. Una protesta annunciata dunque, preceduta da una serie di lettere e mail agli enti preposti. Abbiamo fatto precisamente il 25 gennaio al direttore generale dell'Aspio e al dottor Mauro Raffaele e poi è seguito un'altra, vi dico le date, precisamente l'8.2.2017 al commissario scura della regione Calabria. C'è gente che aspetta, c'è gente che ha bisogno di cure, che sta male, ci sono famiglie dietro che hanno bisogno di essere seguite e da qui non c'è stata neanche una risposta a queste famiglie, non venite che il reparto è chiuso. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Lei ha un documento nelle mani? Una prenotazione fatta per mia figlia dal 7 ottobre del 2016, quindi mi sono recata in reparto senza che mi ha telefonato nessuno che il reparto era chiuso. Dà la possibilità a tutti coloro che non hanno un reddito, diciamo, di una certa importanza, a potersi curare. Io mi rivolgo direttamente al commissario scura, dicendo che abbiamo bisogno anche noi di masticare il cibo, come lo mastica lei. Dottore, io voglio aprire con Andrea, voglio aprire subito, grazie.